Salve a tutti sono Alex il biondo benvenuti in un nuovo video Allora questo video è un altro video brevissimo Perché ragazzi vi voglio annunciare una cosa Oggi ragazzi alle 14.50 Mi raccomando 14.50 Tutti tutti sul mio canale Perché ci sarà una live dove non l'ho mai fatto questa live Cioè commenteremo tutte le partite di serie A Quindi parleremo un po', commenteremo le partite Per esempio Bologna, Benevento e molte altre Tutte Allora ragazzi una cosa Se state allo stadio per esempio allo stadio del Bologna Allo stadio del Sassuolo per esempio Che ne so Mandatemi video, foto su Instagram E magari ve le farò vedere in live E magari vi saluterò Quindi ragazzi mi raccomando 14.50 Tutti sul canale Perché alle 15 saranno le partite Sempre forza Benevento e speriamo che vinciamo E ovviamente non commenteremo solo la partita del Benevento Perché tutti ormai sanno che tifo Benevento Allora dici commenta solo la partita Bologna-Benevento Invece no Commenteremo tutte Quindi spolliciate 14.50 sul canale Un altro video brevissimo Ciao raga 14.50 15.50